Hanno bloccato la maglia Otranto mandando il traffico in tilt. La rabbia dei 250 operai del gruppo Palumbo Leadri è tornata a trasformarsi in protesta con il sit-in che è seguito alla riunione spontanea nella prima mattinata nella sede dell'azienda Sternatia. Non solo lo stallo nell'inizio dei lavori, che era stato detto dopo il loro corteo del 6 marzo, avrebbero dovuto cominciare di lì a poco. A desasperare gli animi si sono messi anche i ritardi nell'erogazione da parte dell'Inps e degli ammortizzatori sociali, erogazione ferma il mese di aprile. In casa integrazione in deroga loro ci stanno da due anni e mezzo perché, spiega il sindacalista della fila CGL Alessio Colella, l'azienda sta ancora attendendo all'autorizzazione per partire nonostante abbia già avuto l'affidamento del cantiere a dicembre. Che sia quasi tutto pronto lo dimostra l'area logistica già attrezzata con tanto di parcomacchine già predisposto ma per il momento fermo all'altezza del chilometro 4. L'inghippo è a Bari, continua Colella, perché abbiamo notizia che sono arrivati tutti i pareri del Ministero e sono positivi. A non essersi ancora pronunciati sono gli assessorati alla solidarietà, alle opere pubbliche e all'agricoltura della regione. E alzando la voce e facendo sentire la propria rabbia che si cerca di smuovere le acque chiete, nelle prossime ore infatti gli operai torneranno a presidiare la statale 16 per venerdì mattina alle 9 è convocato in provincia un tavolo in cui siederà anche l'azienda. L'appalto è da 55 milioni di euro, giudicato al consorzio Quedisal, di cui fa parte appunto anche il gruppo Palumbo, si è inceppato soprattutto a causa dei pareri che riguardano l'espianto degli alberi d'olivo. E questa è infatti l'altra faccia della medaglia. 268 sono gli olivi monumentali su cui deve esprimersi l'assessorato all'ecologia della regione Puglia. 8 mila quelli su cui l'ufficio provinciale agricoltura sta effettuando i sopralluoghi. Dopo la campagna di sensibilizzazione partita da questi schermi, al momento ad avviarsi alla salvezza sono quasi 6 mila alberi su 8 mila e 300. 2 mila e 5 saranno adottati dal comune di Lecce, altrettanti da quello di Novoli. 900 da Minervino, 100 da Uggiano, grazie al lavoro di proposta e coordinamento da parte dell'Associazione Custodi di Olivinopoli. Segno, probabilmente, che tutela dell'ambiente e grandi opere possono convivere con meno sacrifici quando si vuole.